Allora cita le mie parole Stia vicino al secchio per favore Che c'è? Ho già predisposto tutto stavolta Stabilizzare il mio cliente Come dice il legale della TW Pharma Alan Cohen Alla Reuters, ai giornali Alle riviste specializzate Sì, a tutti quanti Che hai? Sta per vomitare di nuovo Il tuo interesse mi commuove Beh, sono preoccupato Non l'avevo capito, mi sono sbagliata Oh dai, Nancy, per favore Noi due non possiamo fare così Il loro matrimonio ormai è andato Non entriamo in competizione con loro Chi le dà il diritto di dire che il nostro matrimonio è andato? Chi glielo dà il diritto? Sì, Walter Sì, me lo hanno appena letto Adesso vedrai che ti arriva Di manipolare, di manipolare il prezzo delle azioni Senti, Walter, io ti richiamo tra un minuto Sì, non l'ho detto io Steven l'ha detto Michael Io a lei non permetto Michael, scusi Di giudicare la nostra famiglia Lei non giudichi il nostro figlio, allora? È diverso Vostro figlio ha picchiato il nostro Sono giovani Sono ragazzini I ragazzini quando giocano si picchiano Da sempre È una regola della vita Non è vero Invece sì Ci vuole una certa maturità per sostituire il diritto alla violenza In origine il diritto, come lei ben saprà, era la forza brutta Sì, parlando della preistoria Ma non certo oggi Non oggi Che vogliamo dire di oggi? Lei è pesante Tutta questa conversazione è pesante Penelope Il mio credo è il dio del massacro Il dio che governa indiscusso dalla notte dei tempi Lei si interessa di Africa, vero? Che succede? Non ti preoccupare per me Nancy Sto bene Ok Io sono appena tornato dal Congo Ho visto ragazzini di otto anni addestrati ad uccidere Arrivano ad uccidere così piccoli anche centinaia di persone Uccidono col macete, col mitra, col calash, col tamper È evidente quindi che se mio figlio spacca uno o due denti Ad un ragazzino con una canna di bambù ai giardini pubblici Io non riesco ad indignarmi come lei Invece dovrebbe Camper È così che si chiamano i lanciagranate? È così che si chiamano? Come si sente? Benissimo Ma che cosa? Che cosa le hai preso? Bile, non è niente Lei non può parlarmi di Africa Io conosco bene le sofferenze dell'Africa Non ne dubito Non penso ad altro da mesi Eviti di toccare questo tasto, la prego Senta, mi sta diventando simpatica, lo sa? Stia zitto Si batte per la pace e per mantenere gli equilibri del mondo Chiudi quella cazzo di bocca, Michael Sicura di volerne ancora? Spio che sicura Non può farmi che bene Questa è New York Qui non siamo a Kinshasa Qui siamo a New York City Viviamo secondo i canoni della società occidentale Quindi quello che capita al Brooklyn Bridge Park, signori Risponde ai valori dell'Occidente A cui, peraltro, ho la fortuna E sono fiera di appartenere Beh, dichiare il proprio marito deve essere uno di quei valori, eh Stai attento, Michael Si è lanciata su di lei come una furia assassina Il mio cuore si sarebbe sciolto La prende in giro, non ci posso credere Che gli frega No, davvero La morale impone di dominare i propri impulsi Ma ci sono momenti in cui non vogliamo farlo Perché non dovrei dire l'avemaria facendo sesso? Questo scotch qui si trova? No, questo no, non credo, no Tamper Tamper, è vero? Sì, Tamper È così che si chiama? Perché non dici soltanto lancia granate? Perché è così che si chiama Come si dice kalash e non kalashnikov O AK-47 Chi lo dice? Adesso basta, Nancy, adesso basta È chiaro che per un uomo di successo come mio marito È difficile interessarsi ai problemi quotidiani dei poveri mortali Esatto Io non capisco Io non capisco Perché oggi, nell'era globale Io non vedo perché non avere un po' di senso della partecipazione Oh, Penelope Risparmiaci queste noiose tiritere da maestrina Oh, ora l'ammazzo Sì? Beh, togli i palese Diciamo, non so Diciamo, non so Dopo un po' non si sopporta Un velato Un velato tentativo di... Ecco, così Ha avuto problemi sul resto? Bene, bene Cosa stavamo dicendo? Tamper Stavamo dicendo Che, malgrado le idee di mio marito Le cose non riguardano più un singolo paese Ma riguardano invece i cittadini del mondo I cittadini del mondo Sì Nancy, è assurdo bere nelle tue condizioni Quali condizioni? Sto benissimo E allora, questo...